Siamo tornati alla vittoria, questa era una cosa importante perché il calendario è veramente terribile come pensavamo lo fosse giustamente all'andata, poi come abbiamo ripetutamente detto siamo stati fortunate nell'assenza degli altri e bravi nel fare i punti sfruttando l'occasione, adesso sono delle partite veramente difficili, oggi una squadra con cui ci si accoppiava bene ma anche male, bene perché sono una squadra simile a noi e proprio per questo anche loro avevano un accoppiamento che poteva risultare favorevole, devo dire nonostante un inizio difficile che è anche comprensibile perché comunque le sconfitte un po' segnano perché perdi un po' di fiducia, perdi un po' di sicurezza, ti entra un po' meno il tiro, pensi di non poter marcare un avversario, di cadere in una situazione di falli e quindi sicuramente un inizio difficile è comprensibile, poi bene piano piano senza fare dei break importanti ma punto dopo punto alternando qualche situazione difensive, anche in questo sono stati bravi ragazzi molto attenti perché oggi abbiamo fatto veramente tante cose diverse e sono stati tutti molto bravi e in questo è stato molto bravo Eric non tanto per i punti realizzati e per la valutazione cioè per le cifre statistiche proprio perché in una partita tattica non ha sbagliato niente e devo dire come l'ho detto a lui quindi non ho nessun problema a dirlo io sono a dirlo a tutti, sono molto contento del livello di concentrazione che sta mettendo è Eric in palestra ogni giorno della settimana e questo per lui è un valore importante quando poi riuscirà con continuità ad unire la concentrazione all'energia i risultati arriveranno oggi si è visto è riuscito in alcuni momenti in altri un po' meno ecco però questa è una nota assolutamente positiva. L'altra nota positiva è che è stata una settimana veramente difficile, siamo stati fortunati anche nel fatto che siamo sempre stati bene nel girone di andata, non abbiamo mai avuto assenze non in partita neanche in allenamento, adesso è un po' che abbiamo qualche probleminio, questa settimana abbiamo avuto questa epidemia influenzale, devo dire ci siamo allenati comunque bene grazie anche all'apporto dei nostri under 19 che sono sempre una risorsa molto importante, ci siamo allenati bene, siamo arrivati alla partita sapendo di avere qualche difficoltà, è evidente che Infante non era in grado di giocare la partita come il suo solito e sono stati bravi gli altri perché comunque anche con gli altri non eravamo a postissimo. Sono molto contento di Damian perché innanzitutto è un bravissimo ragazzo e ascolta moltissimo e sono contento perché io credo che lui possa diventare un giocatore di altissimo livello, dico e quindi sono molto contento perché per lui la strada è diventare un giocatore importante per diventare un giocatore importante ci sono degli aspetti di aggressività che deve migliorare sul campo. Oggi è stato molto bravo non solo in attacco ma anche a rimbalzo e nelle situazioni di traffico difensivo ha messo il suo corpo più di una volta e questo per noi è importante per due ragioni. Primo è importante per lui e nel mio modo di lavorare in pallacanesto con i ragazzi io alla fine dell'anno uno dei miei obiettivi è il miglioramento individuale non solo dei giocatori giovani ma anche dei giocatori non più giovani. Il secondo motivo per cui è importante perché lui è la nostra prima opzione, a noi è vero abbiamo Alan Bosquil ma lui questo lo sa, lui è la nostra prima opzione, lui deve diventare per noi un giocatore fondamentale come lo è stato questa sera sotto tutti i punti di vista quindi tiro da fuori, gioco dentro l'area, falli subiti, tiri liberi, rimbalzi e la nostra stagione può cambiare nel momento in cui lui veramente prende coscienza di questo suo non enorme talento perché lo sa già ma di questo suo impatto che può avere con costanza nella partita. È un ragazzo giovane, è un ragazzo giovane ed è un rookie per questa lega e questa lega è diversa da tante altre leghe per impatto, per metro arbitrale, per emozioni, poi in un palazzo così bello, così pieno ci sono tante componenti, compagni nuovi e avversari nuovi perché per molti dei nostri ragazzi la maggior parte quando vanno ad affrontare un avversario in una situazione di gioco arriva anche una risposta istintiva perché contro molti di loro ci hanno giocato innumerevoli volte, basta pensare a Carra, tutti i nostri giocatori l'hanno affrontato tantissime volte, per lui è tutto nuovo, è nuovo Carra, è nuovo Harris, è nuovo Tonute, è nuovo Ruzziere, è nuovo Diliego, sono tutti giocatori nuovi quindi anche questo è un fattore importante e adesso piano piano, una fase di ritorno in cui lui comincia a ricordarsi anche i giocatori dell'andata, sicuramente questa cosa lo aiuterà. Questa è una cosa che abbiamo già fatto altre volte, chiaramente con un obiettivo futuro perché credo che possa essere un quintetto molto interessante, l'abbiamo fatto altre volte e non eravamo così prontissimi, oggi e per la sua consistenza e per quello di cui abbiamo detto prima, cioè l'attenzione e la consistenza di Eric è chiaro che ci cambia tutto perché abbiamo fisicità, abbiamo rimbalzi, abbiamo un corso, abbiamo un atletismo fuori dalla norma, abbiamo due che possono stoppare, è stata un'azione in cui sono volati in due, prima uno poi l'altro, poi fa niente, non è andata bene però insomma andare a tirare contro due che possono arrivare così facilmente a toccarti la parola in azione di tiro è sicuramente importante. Sono tre settimane che Eric sta mettendo questa energia anche in allenamento, la cosa con lui è riuscire a trasformarla in partita, purtroppo a volte ha bisogno di due, tre, quattro, cinque, sei minuti per riuscire ad accendersi, deve prendere confidenza e non tutte le volte sinceramente possiamo aspettarlo perché ci sono dei compagni più pronti, perché gli avversari nel frattempo magari ti fanno un break sfavorevole. Oggi c'era l'occasione, loro hanno sbagliato qualche tiro di troppo, noi avevamo comunque le rotazioni contate per la disponibilità, lui poteva giocare Luca ma ho fatto una scelta io ho visto le sue condizioni, quindi avevamo le rotazioni un po' limitate e Eric da questo è stato favorito perché è potuto stare in campo con più tempo, a volte questo aiuta però ripeto non sempre è possibile. Infante domani farà 40-45 minuti di lavoro con Roberto Marocco e tirerà un pochino con gli assistenti, poi sabato mattina facciamo un allenamento in viaggio, ci fermiamo a Piacenza a fare allenamento, quindi farà un paio di allenamenti, io penso che una quindicina di minuti ce li possa dare, per noi è già importante, insomma oggi abbiamo provato ma veramente sembrava con tutto il rispetto, sembrava un po' ubriaco ma per sua stessa ammissione, però è stato bravissimo come sempre, ha tifato per i compagni, ha dato suggerimenti, non è stato fermo un attimo anche in panchina. Ecco c'è questo stacco dalla ultima che cambia un po' i punti finali perché poi solitamente a 26 potresti già prendere il playoff, ma quest'anno mi sa di no perché c'è troppa disparità dall'ultima, solitamente a 26 sei anche dentro, poi quest'anno c'è anche che non sono 8 e sono 7 o non sono come erano qualche volta 9 che è la prima, quindi ci fa un segno, 32 addirittura, due anni fa sono entrate a 26, però c'è questa cosa di Imola, c'è questa cosa di Imola che cambia tanto. Storicamente nell'ultimo decennio di grandi centri in Lega 2 non ce ne sono state, a parte la presenza costante di Maggioli, sinceramente ci sono sempre stati giocatori più atletici e più dinamici e questo sicuramente tornerà utile, poi soprattutto oggi contro di loro in cui hanno giocato dei minuti assolutamente senza lunghi con Fossati, con Coronica, insomma hanno tolto Candussi, hanno tolto Di Diego, i punti di riferimento con Luca potevano essere sinceramente complicati e quindi questo ci ha agevolato, poi in realtà l'abbiamo risolta anche usando un po' la zona. Credo che in questo momento sia la squadra più in condizione della Lega, credo che come ho detto ragazzi nessuno andrà a vincere a Ferentino da qui alla fine e noi vogliamo provarci, vogliamo provarci perché vincere lì per quello che ho appena detto potrebbe significare come prendere quattro punti, perdere potrebbe cambiare poco e noi ci vogliamo provare. Abbiamo fatto una buona partita all'andata, chiaramente la squadra ora è diversa, hanno Mosley, hanno una rotazione molto profonda, quando esce Mosley entra Garri e viceversa, hanno esterni italiani importanti, hanno un giocatore di grande abitudine a giocare questo tipo di partite su un finale di stagione che più ci si avvicina alla fine più le partite pesano. Una squadra completa con un playmaker esperto come Guarino, con un giocatore talentuoso come Rodney Green, con un centro che non è proprio un centro, è un giocatore dominante come Mosley, con Pieric che non lo puoi lasciare un attimo perché fa ganestro sempre, con Garri che conoscete benissimo e con giocatori come Ryan Bucci che possono risolvere come ha fatto a Trento la partita in qualsiasi momento della partita. Quindi una squadra come Torino, come Capodorlando, come la stessa Napoli che in quanto roster sicuramente sulla carta è superiore, però per noi la carta ha un valore relativo, noi andiamo là, facciamo un lungo viaggio e vogliamo provare a vincere la partita, sapendo che in caso di sconfitta torniamo e ci prepariamo alla grande partita con Brescia. Grazie. 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 Grazie.